Buongiorno a tutti ragazzi e ragazzeri, eccoci con un nuovo video, video sui prodotti finiti per la casa del mese di febbraio. Allora, iniziamo. È stato corto questo mese, ma i prodotti per la casa sono tanti. Non so, di solito i prodotti sono 4-5 così, questa volta ne ho veramente tanti. Comunque, vabbè, alla fine, forse ne avevamo aperti un po' all'inizio di dicembre, così adesso, vabbè, andiamo avanti, veloci. Vabbè, primo prodotto, sì, parlo, vabbè. Primo prodotto, cosa molto easy, carta igienica della Smart, dell'Esse Lunga, questa qua. Riesco a farvela vedere, ok. Sono 4 maxirotoli e i rotoli sono a due veli. Niente di particolare, carta igienica normale, io mi trovo bene, nel senso che non è troppo, troppo sottile, ecco. Non è la carta regina, però non è neanche una velina, ecco. Cioè, è una carta, devo dire, buona, ecco. Mia mamma la prende della Smart perché costa poco, alla fine, cioè, lei dice, vabbè, ci dobbiamo pulire il sedere, non è che, cioè, non è che dobbiamo farci i fiorellini in testa, quindi, chi se ne frega se è della Smart o no. Comunque, io butto tutto per terra, poi si vedrà. Poi, allora, ho terminato due sgrassatori, sono tutti e due del Conad, del marchio Conad, al profumo di Marsiglia, sono 750 ml, questi qua. Uno lo teniamo in bagno e uno lo teniamo in cucina. Avevamo finito quello della cucina, adesso stiamo finendo quello... E abbiamo... e adesso... no. Avevo finito quello del bagno e adesso sto finendo quello... e ho finito quello della cucina oggi. Insomma, vabbè, comunque, due, mia mamma li prende perché costano poco, anche qui la stessa cosa. Alla fine ci deve pulire le superfici. È vero che ognuno dice... cioè, ognuno fa quello che vuole a casa sua e quindi, esempio, mia mamma dice, io, visto che uso tanto questi prodotti, non mi va di spendere 3 euro per un flacone di 750 ml che mi dura un mese. Cioè, preferisco spendere 1,50 euro, insomma. Poi, quelli che sono in offerta... quelli che sono di marca, se sono in offerta, li compra, assolutamente. Però anche questi della sottomarca, comunque, sono buoni, nel senso, fanno il loro lavoro, puliscono, profumano... perché dobbiamo scartarli. Poi, allora, per... ho terminato, sempre del Conad, questo WC liquido disincrostante per il WC, appunto, 750 ml. Questo qui mi trovavo da Conad, mi serviva, l'ho comprato. Quelli della Dicinet non erano in offerta, quindi non l'ho comprato. Avevo comprato questo. Buono, niente di particolare. Comunque, basta che profumi un attimo e pulisca un attimino, per me va benissimo. Io spero che non mi arrivino messaggi chiamate, videochiamate, robe particolari, perché non ho messo la modalità aereo. Quello, invece, quando io, invece, trovo i vicinetti in offerta, soprattutto all'estelunga e all'iperla grande, quando li trovo in offerta, li compro. A me, una confezione di queste dura due mesetti, perché io, comunque, pulisco il bagno, ma, quando ci sono a casa io, cioè, quando riesco a farlo io, questo ce lo metto. Quando, invece, lo pulisce mia mamma, di solito questo non lo mette, si dimentica. Lei è molto una che fa le cose veloci, e quindi, niente. La profumazione? Sì, sapeva di disincrostante, cioè, boh, non lo so, sapeva di... È molto più buono quello della vicinette. Questo sa proprio di, boh, non so, non mi piace. Cioè, non mi piace la profumazione, però il suo lavoro lo faceva benissimo, assolutamente. Poi, terminati. Allora, per i piatti ho terminato questo, Nelson al limone, da 900 ml, questo qua. Buono, niente di particolare. La profumazione mi piaceva, è un normalissimo sapone per i piatti. Mia mamma questi qua li compra quando li trovo in offerta, che sono nelle confezioni di cartone da tre o da quattro, perché sono molto più convenienti di prendere quelle singole. E nulla. Quando li trova... Lei, ecco, ragazzi, io ve lo dico sempre, mia mamma, prende le cose in offerta. Lei, qualsiasi cosa sia, ogni volta che fa la spesa, se c'è qualcosa che c'è in offerta che le conviene, lo prende anche se ne abbiamo scorta già a casa. Perché comunque, ragazzi, cioè, almeno questo è il ragionamento che fa mia mamma, però comunque lo trovo anche un ragionamento giusto. Perché io devo pagare un flaconcino di questi a prezzo pieno quando la settimana prima era in offerta, per dire. E' vero che poi uno dice, vabbè, ma cosa te ne fai di tutte quelle scorte? Vabbè, raga, comunque la casa va mandata avanti, non è che dici, ci vengo a vivere una volta all'anno qui. Cioè, se noi ci viviamo, comunque le cose le usiamo. E per mia mamma le cose in offerta. Cioè, lei non esiste che prenda un flacone di Chandelier, per esempio, a prezzo pieno, assolutamente no. Quindi vabbè. Comunque buono, ci è piaciuto moltissimo. E a me il Nelson piace in alternativa allo svelto, in realtà. Perché allo svelto dopo un po' ti... cioè... Dopo un po' a me lo svelto mi viene anche da un po' di nausa, così. Ogni tanto qualche cosa di diverso ci sta. Poi, terminato, questo Ajax al limone agisce contro ogni tipo di sporco ultra sgraffato. Questo è un maxi formato per i pavimenti. Questo qui è da un litro e duecento... E duecento. Un litro, più di un litro comunque di prodotto. Questo qui. Buono. In sé era buono. A me la profumazione al limone non piace. In realtà... cioè, nel senso non piace. Non ne vado pazza. Preferisco altre profumazioni. Mia mamma, per esempio, ama il limone. Ha le acque profumate al limone. Vuole le saponette al limone. Cioè, tutto al limone. A me... no. Non tantissimo. Preferisco altre profumazioni. Però, vabbè, comunque... Per quello che costano. Quando li trova sempre in offerta. Sempre la Tio di Tela. E... ci sta. Qua dice... Vegan. Formula biodegradabile al 93%. Prodotto responsabilmente. Flacone in plastica 100% riciclata. Rispetta la vita acquatica. Vabbè, insomma. Cose. Cioè, leggo cose a caso. E... nulla. Ci è piaciuto. Sì, lavava bene. Puliva bene. Lasciava un buon profumo. Però, ve l'ho detto. A me il limone non fa impazzire. Vabbè, gusti ovviamente. Niente di particolare. Allora, poi... Per la lavatrice. Questa era un cosa a caso. Qua, invece, prodotti per la lavatrice. Allora. Ho terminato. Un grey a chiappa colore. 16 fogli. Brilla colore. Questo qua. Buono. Niente di particolare. Io questi qua li compro in offerta. Perché, raga, questi... Cioè, noi parliamo dello sgrassatore. Che costa 2 euro invece che 1. Ma questi, raga. Una confezione di questi. Costa anche 5 euro. Io dico... What? Ma come cacchia rola si fa a comprare una roba a 5 euro? Che poi... Io questi non li metto tutte le volte che mia mamma fa la lavatrice. Perché, comunque, io spesso sono fuori casa. E ora che vedo tutte le volte che mia mamma fa la lavatrice... Cioè, no. Quindi, quando mi ricordo di metterlo, lo metto. E quindi, magari, a me dura anche di più. Ma chi veramente fa le lavatrici tutti i giorni e tutte le volte mette un foglietto, questo lo fai fuori in 16 lavaggi. In 16 lavatrici. Ovvero in... Due settimane? Tre? Perché va bene, ok. Uno... A meno che non siate in due, ma uno anche di 5 persone in famiglia, come fa a fare... Cioè, fa due lavatrici alla volta. Tre lavatrici alla volta. Quindi, io, ragazze, vi consiglio di comprarli in offerta. Beh, vi consiglio. È quello che farete tutte. Cioè, penso, perché, vabbè, è normale. Comunque, niente. Mi sono trovata bene. Non ho visto particolari cose. Qua dice brilla colore. Cioè, vabbè, non è che sbruccicavano. A me, l'importante è che... Cioè, io lo smacchia colore, o anzi, la chiappa colore, lo mettevo per evitare che, visto che mia mamma fa le lavatrici colorate, che dei capi andassero a macchiare altri capi, ok? Per esempio, le mutande. Io le mutande bianche mi ritrovo sempre che diventano grigie, per questo. E niente, comunque buono. Niente di che. Cioè, niente di che, in senso, buono. Niente da dire. Allora, terminati i tuoi prodotti ACE. Una è la Candeggina Gentile Fresco Profumo. Da 2,75 litri. Candeggina per colorati con ossigeno attivo. Allora. Candeggina profumava. Pazzesca. Questa dell'ACE, ragazzi, ho sentito elogiarla da tantissime persone. Tantissime. È pazzesca, ragazzi. Questa mia mamma la mette nella lavatrice. Vabbè, ovviamente. Igenizzi smacchia. Quindi, pazzesca. E... Ovviamente, anche questa la prende quando è in offerta. Se no, di solito, prende la Candeggina, quella dell'ACE lunga, sottomarca. Però, questa è buonissima, ragazzi. Poi, che facciano questi flaconcioni belli grandi, è un... Secondo me, è una cosa in più. Perché, cioè, invece di fare i flaconcetti così, piccolini, da... Un litro così, no? O... Meno di un litro. Uno fa il flaconcione da due litri. Almeno ti dura un pochino di più. Pazzesca. Buonissima. Ho determinato, invece, un altro prodotto ACE. Questo, invece, è il detersivo igienizzante per la lavatrice. Efficace su tutti i tipi di macchie. Qua dice 25 lavaggi. Io, in realtà, non ho bene... Cioè, non so bene quanti ne fa mia mamma, comunque. Bene. Detersivo igienizzante colorati, pericolorati. Questo è un litro e 375 ml. Questo qui, buono. A me, in realtà, tutti i detersivi piacciono. Perché ci trovo proprio il profumo di pulito. Cioè, non ho ancora trovato un detersivo che dico... No, che schifo, questo non mi piace. Cioè, a me il profumo di detersivi piace. Cioè, mi piace tutto, praticamente. Mi piace un sacco. E... Niente. Buono. Mi è piaciuto. Adesso ne abbiamo... Stiamo utilizzando la seconda confezione. E c'è un'altra nuova. Quindi questo qua l'avrà preso nel pacco, quello... Nel cartone. Vabbè, avete capito. Ultimo prodotto, ma non per importanza. Qui, tutto, vabbè. Ultimo prodotto, ma non per importanza. Il... L'ammorbidente di Lenore. Fresca brezza di Capri. Io non capisco perché. Qua c'è scritto fresca brezza. E io leggo freschezza. Vabbè che fa un po'... Ehm... È l'ossigeno che mi dà la testa. Comunque questo qui. Questo l'abbiamo trovato da Iperlagrande. Ed erano in offerta. Qua dice 42 lavaggi. Erano in offerta. E mia mamma l'ha voluto provare. I Lenore non si battono. Cioè, i Lenore sono i Lenore. Buonissimo. La profumazione è pazzesca. Veramente. Ehm... Buono. Buono, buono, buono. Era un litro. Un litro e cinque, insomma. Pazzesco. E i Lenore, ragazzi, costano. Quindi anche qua vige la regola sempre in offerta. Ehm... Cioè, io penso che qua, a parte i prodotti... Ehm... Quelli sottomarca. Tutti i prodotti di marca, penso che io li abbia... Cioè, mia mamma li abbia presi in offerta. Comunque, è buono. Mi piace un sacco. Ehm... Se dovessimo ricapitare da Iperlagrande. O se dovessimo rivedere questo prodotto in offerta, lo ricompreremo sicuramente. A noi, i Lenore e i Coccolino piacciono tantissimo. Anche i Fabuloso non sono male. Però... Mh... Vanno al terzo posto, diciamo. Il must have, quello che amiamo così, è il Coccolino al Gelsomino. Quello è... Madò! Cioè, lo berrei, praticamente. Vabbè, insomma. Questo era l'ultimo prodotto. Ragazze, a posto così. Ho terminato un bel po' di prodotti per la casa in questo periodo. Ehm... Cioè, sono stra felice. Perché comunque... Ogni prodotto dura, dura, dura. Ehi che deve finire, deve finire. Io dico, quando cacchio finisce? Comunque, niente. Oggi non so perché ho la parlantina. Sembra che, non so... Sembra che... Appena ho avuto il caffè, però vabbè. Comunque, ragazze, fatemi sapere cosa avete terminato voi. Fatemi sapere se li avete usati, questi prodotti. E qual è la vostra opinione, ovviamente. E... Vi aspetto per un altro video. Cioè, vi aspetto... Voi aspettate per un altro video. Comunque, vi auguro una buona giornata. Ciao!